cari amici di missione tv benvenuti a un nostro nuovo appuntamento il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi c'è ciro silvestri segretario generale vicario del sindacato fisi ciao ciro grazie per essere con noi ciao francesca grazie a te per l'invito ciro oramai sono saltati tutti gli argini siamo nelle mani di un potere folle cattivo che prevede pensa perfino di indicare ai cosiddetti novax cosa possono acquistare al supermercato cioè di oggi la notizia del nuovo dpcm che conterrebbe delle normative in grado di selezionare gli alimenti di prima necessità che il novax può mangiare quelli che invece deve lasciare sugli scaffali ci sarebbe da ridere se la situazione non fosse davvero drammatica in questo clima la risposta dei sindacati è prevalentemente nulla a parte voi insomma che vi state cercando di fare sentire una voce ragionevole qual è la tua impressione rispetto al periodo che stiamo vivendo hai detto benissimo francesco oramai siamo alla follia perché insomma non hanno più senso queste questi interventi del governo come dire anche sulla possibilità di fare la spesa in un determinato modo piuttosto che un altro come fanno capire lo stato di follia in cui è accaduto il nostro governo il nostro paese noi già da una settimana abbiamo dato vita ad un'iniziativa qua a napoli denominandolo ai custodi della costituzione perché siamo dovuti ricorrere all'aiuto dei cittadini per preservare e custodire la costituzione oramai le istituzioni più alta anche la presidenza della repubblica ha in qualche modo come dire abbandonato questo questo ruolo di garanzia e oramai come cittadini dobbiamo pensare noi a ristabilire il giusto equilibrio in questo paese e a far valere i nostri diritti tant'è che ieri per esempio tra le tante assurdità varate in questi giorni probabilmente è sfuggito che alcune popolazioni quelle insulari sono oramai confinate che è una misura come dire di regime fascista c'è tantissime persone migliaia di cittadini non possono raggiungere la terra ferma magari per andare a lavorare piuttosto che per studiare o per ricongiungersi agli affetti più cari ieri abbiamo dato proprio luogo ad un'operazione nel golfo di napoli per assicurare ad alcuni residenti dell'isola d'ischia di poter raggiungere la terra ferma ebbene all'arrivo in porto di questa piccola imbarcazione di fortuna che abbiamo recuperato c'è stato l'intervento della guardia di finanza che in qualche modo ha rallentato e ha reso complicato l'arrivo a terra di queste persone quindi ci rendiamo conto che veramente oramai insomma il governo ha perso anche una logica nella sua stessa foglia persa anche una logica degli interventi perché se non ci sono misure restrittive nel trasporto privato perché impedire ad un'imbarcazione privata di trasportare delle persone quindi da ciò si capisce che il contenimento del contagio non ha nessun come dire riferimento reale ci sono soltanto delle misure di controllo nei confronti dei cittadini a cui si vuole impedire come dell'esercizio delle proprie libertà questo è quello che sta succedendo e ovviamente un sindacato ha il dovere assieme ai lavoratori che rappresenta di ristabilire come di giusto peso e la giusta sovranità del popolo rispetto alle istituzioni che oramai come dicevo hanno abbandonato questo ruolo di garanzia e di custodia della costituzione ecco giro oltre che strategie di controllo ho l'impressione siamo di fronte a delle vere e proprie ritorsioni contro chi non si è piegato che senso ha dal punto di vista sanitario impedire alla gente di acquistare un prodotto piuttosto che un altro sono chiaramente delle ripicche violente che un potere oramai senza controllo oramai impunito mette in atto nel silenzio complessivo di una di una di un sindacato maggioritario pensa alla cgl ma anche alla cisa e alla will che di fatto fiancheggia questa torsione autoritaria e nei fatti fascista ti stupisce il consenso dei maggiori sindacati rispetto a questo tipo di manovre che obiettivamente ci riportano agli anni più bui del novecento? No non mi stupisce affatto Francesco anche perché il sindacato o meglio il sindacato tradizionale quello che ci siamo abituati a vedere negli ultimi vent'anni era già da un pelpo che oramai aveva in qualche modo abbandonato i lavoratori a se stessi e così come abbiamo già detto in tante altre occasioni il buon presidente Draghi oltre a creare il partito unico è stato capace anche di realizzare il sindacato unico resta come dire impressa nella mente quell'immagine di Draghi che mette la mano sulla spalla al segretario del sindacato maggiore in Italia quasi come segno di sottomissione di questa volontà politica erano cose che non si erano mai viste e quindi come dire il sindacato che diventa il braccio operativo ma dalla politica ma nel senso negativo del termine nel senso appunto di andare a limitare ulteriormente i diritti dei lavoratori e dicevi bene effettivamente c'è una sorta di accanimento nei confronti di chi ha deciso nel rispetto delle leggi perché lo prevede la nostra costituzione quindi le persone che hanno deciso liberamente di non vaccinarsi non è che stanno commettendo un reato non è che stanno come dire attentando alla salute delle persone stanno esercitando la libera scelta personale che è inviolabile e sacra e nel momento in cui non gli si dà più questa possibilità ma si trovano una serie di misure per estorcere invece un consenso che altrimenti non sarebbe libero beh va da sé che loro adesso hanno pensato anche di passare come dire alle misure di di accanimento di punizione perché non hanno eseguito gli ordini del del governo e questo è sinceramente inaccettabile ma la cosa che ci ci come dire amareggia ancora di più è che non ci sia la ribellione anche dei commercianti delle partite IVA cioè delle persone che comunque dell'attività commerciale dovrebbero avere maggiore cura rispetto a quelle che sono le scelte del governo perché ricordiamolo poi le scelte del governo sono sempre tese a salvaguardare gli interessi della grande distribuzione e non sicuramente diciamo dei piccoli esercizi commerciali quindi prima di insorgere davanti a queste misure dovrebbero essere loro che si vedranno come dire preclusi la possibilità di svolgere al meglio le proprie attività commerciali ed è questo un'ulteriore limitazione anche della della libertà imprenditoriale cioè ognuno decide di commercializzare i propri prodotti nel modo in cui lo ritiene diciamo più giusto nel rispetto delle leggi ma non di questa assurdità di norme che come dire oltre ad essere punitive per per le persone sono anche una limitazione per la libera attività commerciale senti Ciro voi avete indetto uno sciopero generale per il 15 febbraio ci vuoi spiegare i contro i contorni di questa iniziativa sì sì allora nell'ultima iniziativa che c'è stata a piazza san giovanni a roma qualche giorno fa da quel palco abbiamo lanciato l'iniziativa dello sciopero generale per il 15 di febbraio perché il 15 di febbraio poi si dovrebbero vedere o meglio è il giorno d'inizio delle ulteriori restrizioni pensate da questo governo quindi in quel giorno abbiamo pensato di proclamare lo sciopero generale che dura due giorni il 15 e il 16 di febbraio per tutti i settori pubblici e privati e per il giorno 15 di avere questa grande manifestazione generale convocata a roma piazza san giovanni dove ospiteremo i principali leader dei partiti dei gruppi di opposizione come ti dicevo tu sei o saresti ospite graditissimo insomma perché sei una voce autorevolissima del dissenso del nostro paese quindi saremmo onorati di avere io farò di tutto per essere con voi farò tutto il possibile per essere lì con voi grazie francesco come sempre disponibilissime gentili e dicevo in quella giornata perché poi a parte il discorso dell'introduzione delle nuove misure restrittive quindi dell'obbligo dei cinquantenni per tutte le attività lavorative di vaccinarsi o di essere sospesi dal lavoro voglio ricordare che nel silenzio più generale anche della politica non solo dei sindacati siamo in una fase delicatissima perché c'è stato un rincaro di tutti i generi di prima necessità dei costi energetici quindi lo sciopero sarà anche per stabilire che come dire la le misure che si stanno introducendo stanno impoverendo il nostro paese non se ne può proprio più perché quando sarà finito questo delirio diciamo del virus e della pandemia ci saranno purtroppo i costi da pagare dell'economia e oramai questo è un paese allo sbando un paese che veramente non ne può più veramente impoverito in più c'è il problema della sanità che appunto nonostante l'emergenza che loro dichiarano ci sono ancora ulteriori tagli nella sanità piuttosto che rafforzarla piuttosto che implementarla piuttosto che migliorarla si sta ulteriormente limitando veramente al lumicino i servizi essenziali della nostra sanità e questo ovviamente non può che pesare sui cittadini italiani bene noi ci dobbiamo opporre fermamente a queste decisioni politiche e fare in modo che veramente il governo draghi tutti quelli che lo supportano vadano veramente a casa e da dove ci siano delle responsabilità come in tanti casi abbiamo già visto paghino per queste responsabilità perché hanno danneggiato il paese hanno danneggiato le prospettive anche di crescita di questo paese che sono delle responsabilità gravissime ed è giusto che paghino per queste responsabilità quindi invitiamo tutti gli italiani il 15 e il 16 di febbraio a scioperare soprattutto ad essere presenti con noi a piazza san giovanni a roma senti quale sarà la piattaforma programmatica del vostro sciopero allora per per intenderci francesco come ti dicevo noi siamo diciamo su sui temi principali dell'economia della finanza che necessariamente vanno rivalutati perché ci vuole un'azione forse forte di recupero e di contenimento di questi sovraccosti perché la situazione generale non consente aumento neanche di pochi punti percentuali ma noi parliamo per i costi energetici anche di aumenti del 20 e del 30 per cento è necessario ristabilire il diritto perché l'altra questione che appunto tu sei stato attento anche in tante trasmissioni l'hai sottolineato oramai non c'è più certezza di diritto perché finché permarrà questo stadio di emergenza la magistratura purtroppo in qualche modo ha le mani legate quindi nel merito tante tante situazioni non sono potute emergere perché c'è una limitazione anche dell'azione della magistratura e quindi sono piani che vanno necessariamente ristabiliti per ritornare quanto prima alla normalità in questo paese diventa quasi secondario la gestione dell'emergenza sanitaria perché i danni che sono stati fatti nei settori come quello del lavoro, dell'economia e della giustizia sono tanti e tali che veramente è diventato urgentissimo intervenire adesso e bloccare come dire ulteriori derive e ulteriori danneggiamenti in questi settori non ne parliamo poi quello dell'aspetto culturale perché ovviamente che la scuola stia lavorando in condizioni assurde oramai da più di due anni le conseguenze si vedranno di qui a qualche anno in quello che sarà il risultato insomma di tutti i discenti, cioè di quelli che hanno frequentato le scuole in questi due anni che si sta ulteriormente impoverendo come dire di contenuti culturali perché viene somministrato in qualche modo insomma come dire sempre precario, sempre diciamo provvisorio e non c'è più possibilità di esercitare un velo ruolo educativo da parte della scuola nel nostro paese, quindi sono tutti aspetti che sono diventati urgentissimi e sui quali bisogna intervenire da subito. Senti Ciro, intrapedi una venuta torsione autoritaria nel nostro paese? Beh, purtroppo quello oramai è sotto gli occhi di tutti Francesco, io credo, io lo scrivevo proprio qualche giorno fa parlando di un paese immaginario e immaginate un paese dove non è possibile, che ne so, esibendo un permesso poter utilizzare i mezzi pubblici, dove non è più possibile la libera circolazione, dove non è più possibile il diritto allo studio, dove non è più possibile garantito l'accesso negli ospedali. Se noi raccontassimo una cosa del genere, senza dire che lo stiamo vivendo in Italia, verrebbe naturale l'intervento, come dire, di tutti gli organismi mondiali in difesa di queste popolazioni. Però siccome sembra paradossale, non sembra succedere in Italia, probabilmente gli organismi internazionali, gli organismi mondiali non si rendono effettivamente conto di quello che sta succedendo nel nostro paese, perché sembra appunto un incubo, un sogno, insomma trasformato in un incubo, cioè sembrano cose talmente come dire assurde che ci sembrano anche non vere, mentre invece proprio quello che stiamo vivendo nei nostri giorni oramai da due anni e quindi probabilmente non riusciamo a far capire alla comunità internazionale del baratro in cui è caduto il nostro paese. Cioè oramai il ragionamento non ci accompagna più nelle cose ordinate, cioè pensate che vengono impediti i trattamenti sanitari a persone che ne hanno bisogno, perché oramai l'unica priorità per la nostra sanità è il Covid, persone che aspettano anche, come dire, terapie di una certa urgenza, di una certa delicatezza non possono essere trattate. Addirittura si è impedito, sappiamo tutti che la nostra sanità, come dire, è spostata fortemente per la parte di ospedali, insomma verso il nord del paese. Ad oggi una persona che magari era in trattamento per qualche terapia in ospedali del nord gli è impedito, diciamo, di raggiungere questi ospedali perché se non vaccinati non possono utilizzare i mezzi di trasporto come treni, come aerei. Quindi pensate veramente a quale assurdità ci hanno ridotto, cioè veramente la negazione dei diritti più elementari. Senti Ciro, si respira un'aria brutta anche con riferimento alla gestione del dissenso rispetto alle politiche governative. Sembra che alcuni poteri stiano preparando una nuova strategia della tensione, cioè si ha la netta, la percezione che un certo apparato profondo possa, come dire, per incentivare la costruzione di eventi condotte eversive per poi addossare la colpa a chi protesta pacificamente nel solco della Costituzione e chiudere così i conti con un'aria che non si piega. D'altronde questo è il paese di Piazza della Loggia, il paese delle stragi del 92-93, il paese di Genova 2001. Secondo te nei soliti centri oscure del potere stanno pianificando una strategia di questo tipo? Beh, io penso che l'hanno pensato già dal primo momento, Francesco, cioè nel senso che loro in qualche modo nelle prime fasi del dissenso hanno lasciato fare. Poi ovviamente hanno sguinzagliato, come dire, i loro infiltrati, i loro uomini, che a vario titolo si sono introdotti nelle diverse organizzazioni e abbiamo visto in alcuni casi anche i risultati. Le logiche di questo governo sono appunto quelle prima della denigrazione, perché il ridurre in etichette l'intero movimento del No Green Pass a dei Novak, se c'è comunque sempre alle eccezioni negative, il tutto ridotto appunto in etichette sprezzanti talvolta, senza tenere conto delle ragioni che portano milioni di italiani oramai da due anni a protestare in piazza. Dopo appunto, quando hanno visto che questo fronte sta crescendo, perché indipendentemente, come dire, dalla nostra capacità di alimentare le motivazioni di questo fronte, diciamo che anche loro poi contribuiscono a farla allargare, perché nel loro assurdità dobbiamo anche ricordare che per esempio ad oggi sono definiti Novak, anche persone che hanno fatto due dosi del vaccino, cioè secondo i loro criteri una persona che ha somministrato, si è fatta somministrare per due volte il vaccino, è ritenuto un Novak perché non ha assolto secondo loro, insomma come dire, alla necessità di fare anche il terzo vaccino e quindi nel momento in cui sono perdenti su questo fronte, perché si sta allargando quello della protesta, quella del dissenso, e allora io penso che non esiteranno un attimo come dire, anche a dare dimostrazione poi di non tenere, diciamo, neanche alla pacificazione del paese, ma piuttosto come dire, a renderlo un paese turbolento, tanto da giustificare poi ulteriori restrizioni. Questa è quella che è stata, come dire, la storia di questo paese anche negli anni passati e non credo che neanche stavolta esiteranno, come dire, ad attuare mezzi sicuramente non leciti per creare ulteriore paura e soprattutto per indurre le persone a non protestare, perché spaventandoli, è qui per esempio una cosa che noto spesso, la pratica è il ricorso all'identificazione delle persone, persone che magari stanno tranquillamente in piazza, nel rispetto del distanziamento c'è questo ricorso assiduo, continuo all'identificazione da parte della polizia, quasi come dire, a dire, vi controlliamo, vi teniamo d'occhio ad intimorirli e ad impedirli, come dire, di unirsi a quelle forze sane del paese che vogliono interrompere questa assurdità che stiamo vivendo. Quindi temo pure io, ma siamo in tanti a temerlo, che le manifestazioni che vengono organizzate, noi dobbiamo prestare la massima attenzione laddove ci sono delle infiltrazioni o delle presunte infiltrazioni che dobbiamo prontamente segnalare ed isolare dai movimenti che invece sono del tutto pacifici e lo ricordo per l'ennesima volta, i nostri movimenti, le nostre organizzazioni sono state tacciate di fascismo, ma da chi sono state tacciate di fascismo? Da chi nel pensiero, nelle azioni, nel linguaggio è fascista, perché il fascismo in questo momento è al governo, non è sicuramente nel popolo italiano, è al governo e quindi ci dobbiamo aspettare anche delle azioni fasciste da questo governo. Senti Ciro, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi, ricordo a tutti l'evento del 15 febbraio, se ci vuoi lasciare con un invito ai lavoratori ad unirsi al Fisi, che è l'unico sindacato che sta difendendo le ragioni degli oppressi in maniera evidente e senza ipocrisia, ti lascio le conclusioni. Grazie Francesco, sì, l'invito lo voglio fare, anche se in questo momento sembrerà strano, perché il nostro sindacato sta, come dire, in qualche modo rappresentando i bisogni dei lavoratori e li stiamo comunque associando, nonostante la maggior parte dei nostri lavoratori, dei nostri iscritti, sono sospesi dal lavoro proprio perché hanno fatto delle scelte coerenti con la loro vita e con quello che è anche l'impegno che noi profondiamo come sindacato. Noi siamo, ripeto, questo proprio per stare al ragionamento, non siamo un sindacato Novak, noi siamo un sindacato che è per la libera scelta, che si occupa di tutelare gli interessi dei lavoratori e che in questa fase delicata del Paese si sta anche occupando di ripristinare la Costituzione, assieme a tante altre organizzazioni di dissenso con le quali collaboriamo. uno degli impegni che ci siamo assunti è anche di favorire il dialogo tra queste forze, perché una debolezza delle nostre forze in campo è proprio quello di comunicare un poco tra noi e di non avere questa propensione a fare fronte comune. Bene, noi come sindacati ci siamo anche preposti, diciamo, di contribuire all'unificazione di questo fronte di opposizione che è ampio, che è molto più di quanto si vuole far sembrare e che ci auguriamo che Unita possa fare in modo che si mandino via questi dittatori, né più né meno, perché bisogna definirli così. E quindi per poterlo fare anche il sindacato ha bisogno di forza e la forza del sindacato passa attraverso l'adesione degli iscritti. Quindi sosteneteci perché vi daremo sempre voce e saremo sempre in vostra difesa come dire a rappresentarvi. E assieme a tutti gli altri amici delle altre organizzazioni cercheremo di liberare nuovamente questo Paese. Grazie a Ciro Silvestri. Grazie a te Francesco. Cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito questo nostro importante ulteriore approfondimento. Vi ricordo che Visione TV è una TV libera che non gode di nessun finanziatore esterno né interno. Ci reggiamo soltanto grazie ai doni, alle libere donazioni, alle generosità di un pubblico che vuole ascoltare una voce non appiattita e non al servizio dei soliti padroni globalizzati. Ci potete aiutare con Bonifico, con Paypal, potete andare sul nostro sito www.visione.tv.it e abbonarvi. Grazie a tutti voi, una buona giornata. Grazie a tutti voi, una buona giornata.